Cristina Scuccia ha davvero una fidanzata? Emersa una verità agghiacciante L'isola dei famosi. La naufraga è fidanzata con una donna? Spunta un clamoroso retroscena Nella puntata andata in onda ieri sera Ilari Blasi ha voluto parlare a tu per tu con l'ex suora Cristina Scuccia Ed in questa occasione la conduttrice ed i suoi due opinionisti le hanno fatto qualche domanda sul suo privato, non ottenendo però le risposte sperate Grazie a tutti La parrocchia di San Leone Magno Sempre in questa intervista rilasciata al magazine Diva e Donna. Hanno poi dichiarato che la concorrente dell'isola dei famosi si sta facendo infangare solo per cercare di ottenere il successo sperato Troviamo di cattivo gusto che continui a parlare di Gesù e Dio in un programma come l'isola dei famosi Insomma queste persone non ci sono andate certo giù leggere nei confronti della concorrente del reality show VIP condotto da Ilari Blasi La quale ieri è stata messa a spalle al muro da Vladimir Luxuria La naufraga al centro delle polemiche. Le persone della sua ex parrocchia. Preghiamo per lei Queste persone della parrocchia di San Leone Magno hanno poi concluso l'intervento sull'ultimo numero del magazine Diva e Donna uscito giusto oggi in tutte le edicole asserendo che pregheranno molto per l'ex suora Cristina Scuccia Nella speranza che questa esperienza all'isola dei famosi possa portarle fortuna e successo Non ci resta che pregare per lei e sperare che le vada davvero tutto bene Insomma questa sua partecipazione al reality show VIP condotto da Ilari Blasi al momento le ha portato più di qualche grattacapo Tuttavia la naufraga ha sempre continuato ad affrontare questa avventura con il sorriso sulla bocca senza cedere alle varie provocazioni Si segnala che l'ex suora è anche finita in nomination questa settimana. Il pubblico a casa la salverà?